La mole di cattiverie che ho letto ma soprattutto sentito dalla gente del quartiere sul nostro rapporto con Giovanni è qualcosa di disgustoso, qualcosa di disgustoso perché si pensa che noi senza Giovanni non si possa fare a meno, senza Giovanni il quinto potere non esisterebbe più, ma io vorrei tranquillizzare tutti che anche senza Giovanni il quinto potere gode di ottima salute, di sana e robusta costituzione, questo nessuno può negarlo, è inutile che guardi me, è inutile che guardi me. E vorrei precisare alcune cose anche di natura economica perché questo è importantissimo, ci avete sentito promettere ad Alvaro e Domi un appoggio sostanziale, parliamo di circa 800 euro oltre a quello che abbiamo dato finora, per i biglietti in modo tale che possano andare in aereo a Düsseldorf. Allora 123 più o meno euro sono i soldi di questi 800, sono i soldi che abbiamo guadagnato dal 26 luglio al 2 settembre, ben oltre il mese, dagli unici due video su Giovanni che siamo stati costretti a pubblicare e chi ci segue e ha un po' di coscienza ha notato che siamo stati costretti a pubblicare, così come purtroppo sono costretto a pubblicare quest'altra volta, perché siccome nessuno ti affronta vis-à-vis, nessuno ti affronta faccia faccia perché la paura, mi sento di fare qualche chiarimento. Bene, questi unici due video su Giovanni che abbiamo pubblicato nell'ultimo mese e come si dice a Bergamo è Madonna, sono valsi 123 euro, uno più o meno 87 e uno più o meno 40 euro. Io pago il mutuo di casa. Potremmo pagare neanche due giorni di gasolio alla macchina di Quinto Potere, ma va bene tutto, ma vorrei comunque precisare che anche i soldi di questo video saranno destinati da Quinto Potere alla causa di Alvaro e Domi e poi alla fine quando ci congederemo con loro, vi faremo vedere il resto conto, in modo tale che nessuno possa dire quelli così, quelli colà. Giovanni è stato importante per noi da un punto di vista affettivo, sì economico e valso certamente qualcosa, ma affettivo soprattutto, ma ormai non c'è più necessità che ci si occupi di Giovanni. Giovanni ha la sua vita e quindi vi prego, ma guarda, lo faccio dai, simbolicamente lo faccio, mi metto in ginocchio, vi supplico, non dovete aggiornarci sulle bravate, ma su nulla. Quello che fa Giovanni sono fatti di Giovanni, ok? Io lo so che probabilmente adesso lui starà anche dando di matto perché si sente rinominato, però il problema è uno e vorrei farglielo capire, anche perché ormai ci salutiamo a malapena, lo abbiamo visto proprio oggi pomeriggio, non è più compatibile con questa zona, la gente ha dei problemi di convivenza, ok? Quindi Bari è grandissima, Bari è veramente molto grande, quindi sarebbe il caso di separarci anche geograficamente, fisicamente, in modo tale da non avere nessun tipo di problema, anche perché alla fine della fiera, un rapporto così lungo, io sapevo che sarebbe stato difficilissimo, lo sapevo che sarebbe stato difficilissimo, ma un rapporto così lungo si porta degli strascichi. Giovanni mi aveva bloccato, cioè io non potevo più comunicare con Giovanni, non lo facevo per carità di Dio, senza bloccarlo, senza questa necessità, però mi ha bloccato. Si è ricordato di sbloccarmi l'altro giorno perché si fidava di me all'epoca, mi aveva dato il pin del suo libretto, quindi si è trovato spaisato perché doveva riavere il pin del libretto e io gliel'ho dato tranquillamente, senza alcun problema, perché è qualcosa che gli appartiene, così come a chi dice che la rovina di Giovanni è stato il fatto che io gli abbia fatto prendere la pensione, quello era un diritto di Giovanni, non fossi stato io tramite un CAF qualunque, fosse stato un altro CAF, sarebbe stata la stessa cosa, perché nessuno può impedire a chi ha diritto di avere il proprio sussidio, questo è un fatto essenziale, così lo chiariamo una volta per tutte. E poi vorrei dirvi anche che evidentemente ha ritenuto necessario Giovanni recentemente far arrivare l'orecchio che le siringhe che stavano proprio di fronte a casa di quinto potere non erano le sue, a questo ci fa piacere, noi speriamo che non ne usi in generale, ma non è una cosa anche in questo caso che ci interessa Giovanni, quindi non devi sforzarti di farci arrivare nessun tipo di messaggio, devi invece stare alla larga da tutte le persone che abitano a casa di quinto potere, perché quelle persone sono persone che anche loro hanno bisogno di stare sereni e tranquilli e non devono avere la necessità di dover badare anche alle tue incombenze. Questo vorrei fosse chiaro, soprattutto in ora notturna. Vorrei che questo fosse chiaro, è una cosa che non dipende da nessuno, nel senso che io ho il dovere di riferire queste cose, in modo tale che questi coglioni se ne vadano immediatamente davanti agli occhi e le scatole mie. Giusto Tino? Giustissimo. Ma la lasciamo e andiamo avanti. Spero di essere stato abbastanza chiaro e di non dover da qui ad anni, 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 tornare sull'argomento, perché ogni video che vedrete relativamente a qualcosa che appartiene a Giovanni, è un video che sono costretto a fare, per tante ragioni e i soldi incassati dai video su Giovanni che siamo costretti a fare saranno dedicati man mano a delle cause seguite da Quinto Potere, fino a quando partiranno per Dusseldorf ad Alvaro e Domi. Mi auguro di non doverne fare da oggi, 2 settembre, nemmeno più un solo video, perché vuol dire che i messaggi saranno stati tutti recepiti nel migliore dei modi. In caso contrario, chi mi conosce e chi sta ascoltando sa quanto io sia coriaceo e testardo e quindi quanto io possa continuare fino allo spirimento totale per riuscire a rivendicare quanto con grande sacrificio e dedizione siamo riusciti a creare e a costruire con o senza quello o quell'altro. a noi la vita non cambia e ve lo possiamo assicurare. Per ora e solo per ora è quasi tutto. Non posso dire tutto perché non so quante altre volte debba essere costretto a tornare sull'argomento. Per ora è quasi tutto. Grazie a tutti. Grazie a tutti.